Ufficio Reclami Il signor Carmelo Adinolfi, che qui è proprietario di un pezzo di terra, vuole lamentare proprio un problema legato alla puzza, alle acque che non vengono manutenute nel modo giusto. Non solo per il measma che si sente tutti i giorni, maggiormente poi di sera, perché evidentemente di sera vengono a scaricare non vesti. Il mio l'albero non è pulito e quindi il pericolo, anche se il pericolo non è per cava, perché qua è abbastanza, figuriamoci, se si muove questa roba va a finire e non c'era superiore. Per me non è tanto il pericolo di un alluvione, di un allagamento, ma è proprio per la puzza e per gli animali, perché ci sono topi, serpenti, non capisce niente. Lei che cosa chiede in questo momento? Che venga ripulita l'alvea e che si sistemano le cose, perché io non posso tenere neanche un albero di frutta, perché i topi, i saggono dal fiume e si vanno a mangiare tutti. Io ho un filare di viti, che l'anno scorso non ho raccolto un chicco d'uva. L'ultima domanda che le faccio è, oltre al danno la beffa, perché lei voleva risistemare un pochino il tratto di sua proprietà vicino al fiume, che cosa è il fiume? Che cosa è fatto? Inciampato, è caduto e si è fatto anche... Me l'hanno impedito di chiudere perché dice che non si può chiudere, perché il controllo di bonifica ha il diritto di passaggio e roba. Io un giorno stavo nel mio ponte, stavo pulendo, cioè nel mio ponte è un'orticella, stavo pulendo l'alvea, il terreno, ho inciampato e sono finito nella cavaiola. E quindi sono 20 mesi che sto in queste condizioni e chi sa come me ne viene, perché se mi opero posso rimanere su una sede a rotella. Se tutto va bene ti manco comunque... Parzialmente paralizzato. Parzialmente paralizzato perché non posso fare più movimenti. Parzialmente paralizzato perché non posso fare più movimenti.